Musica Ascoltato l'appello dei genitori dei bambini disabili a cui erano state tagliate alcune ore di assistenza, spanedda e fundoni, rimoduliamo le ore, entro dieci giorni incontriamo le famiglie. Dal progetto Iscola nuovi finanziamenti per le scuole di Sassari, molti progetti di manutenzione, nuovo complesso per Monte Rosello Basso, il punto con l'assessore comunale ai lavori pubblici Ottavio Sanna. Velencità a Sassari nella piscina di Lufangazzo per un'iniziativa rivolta ai più piccoli, grande entusiasmo dei giovanissimi velisti che hanno così avuto il primo contatto con le barche. TG di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura l'avete sentito dagli strilli del nostro sommario, partiamo dalla scuola perché pare aver trovato una soluzione, la questione è legata al taglio dalle ore all'assistenza ai disabili nelle scuole gestite dalla comune di Sassari. Dopo l'ascolto dei genitori e la rivalutazione del gruppo consigliere del PD, arriva la risposta attesa dalle famiglie. I tagli verranno rimodulati e entro dieci giorni ci sarà un nuovo incontro con i genitori. È importante ripristinare il clima di fiducia con le famiglie, dicono spanedda e fundoni. La mobilitazione dei genitori e degli allievi disabili delle scuole gestite dal comune in seguito al taglio delle ore degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione ha portato il gruppo consigliare, su proposta della capogruppo e presidente della Commissione Cultura e Servizi Sociali, Carla Fundoni, a valutare la rimodulazione delle ore sulla base delle esigenze espresse dalle famiglie proprio nei giorni scorsi. La problematica da affrontare era importante per la città perché bisognava dare risposte alle famiglie e soprattutto i bambini che sono i primi attori di questo importante percorso. Il gruppo consigliare ha sentito la necessità insieme all'assessora di analizzare in maniera seria le criticità che sono risultate da questo percorso e mettere in atto quello che la politica deve fare cioè recuperare il tempo che purtroppo si è perso dando delle risposte serie e concrete e reinserendo quindi le ore che per il momento erano state disattese a delle famiglie e dei bambini che aspettavano un percorso di recupero impegnandosi anche a mettere eventualmente ulteriori risorse qualora queste dovessero ritenersi necessarie. L'assessore alle politiche sociali Monica Spaneda ha ascoltato, recandosi nelle scuole, i genitori dei bambini interessati dal taglio delle ore all'assistenza. Nel mese di gennaio, infatti, a causa della rimodulazione del servizio per la nomina degli insegnanti, si è iniziato ad attuare il percorso previsto dal protocollo, con il monitoraggio per la valutazione dei progressi nell'acquisizione delle autonomie dei bambini. Ma non tutte le famiglie sono state coinvolte adeguatamente. Importante in questa fase è stato ristabilire il clima di fiducia e di dialogo previsto proprio dal protocollo siglato lo scorso luglio. Il confronto ci ha portato a dire che la rimodulazione avverrà solo in attuazione stretta del protocollo per cui in seguito al monitoraggio verranno effettuate le rimodulazioni. Abbiamo una prima riunione domani con tutti i dirigenti scolastici, con il responsabile dell'AS, del direttore regionale. E poi nei prossimi giorni, pensiamo il 9 e il 15, faremo delle riunioni con tutti i genitori proprio perché possiamo realmente condividere e portare a piena conoscenza il percorso, il processo e anche analizzare di nuovo gli spunti di riflessione di eventuali nuove proposte perché già informalmente alcune ci sono state rappresentate. Continuiamo con la prima pagina dedicata alle scuole. In arrivo per Sassari, nuovi finanziamenti nell'abito del progetto regionale Iscola. Abbiamo approfittato la notizia per fare il punto sulla situazione degli edifici scolastici di pertinenza del Comune con l'assessore dei lavori pubblici Ottavio Sanna. Sentiamo il servizio di Marco Sanna. Sono in arrivo a Sassari, nuovi finanziamenti per le scuole, non solo per completare i lavori già avviati ma per programmare interventi di manutenzione stesi a tutti gli istituti cittadini di competenza comunale e per una nuova opera a Monte Rosello Basso. Il progetto Iscola della regione sta sopperendo la scarsità delle risorse municipali mentre in città si vedono i risultati delle prime complete realizzazioni. Abbiamo fatto il punto con l'assessore dei lavori pubblici del Comune di Sassari, Ottavio Sanna, a partire dalla situazione della scuola dell'infanzia di Via Nievo, incendiata dai vandali, e da quella primaria di Via Pavese che sta ospitando i bambini dell'edificio danneggiato. L'ultimo degli interventi che stiamo facendo con Iscola, col progetto Iscola, è proprio la riqualificazione della scuola primaria di Via Manzoni che ha avuto un finanziamento di 240 mila euro e che stiamo portando a termine. Stiamo intervenendo, come già detto nei giorni scorsi, su Via Ipolito Nievo, abbiamo già speso 360 mila euro, avremo necessità di altri 40 mila euro che recupereremo dal bilancio comunale e soprattutto cercheremo anche di avere un ulteriore finanziamento della regione. I nuovi finanziamenti del progetto Iscola, a partire dall'anno in corso, riguarderanno tre filoni di interventi per un totale di oltre 6 milioni di euro. Una prima fascia è l'emergenza, che vorremmo dare risposte alle scuole delle Borgatte, a Via Cilea, a Via Washington, la stessa Via Nievo, a Via Gorizia. Una seconda fascia invece è quella che riguarda la manutenzione in altre scuole. Va ricordato che la nostra città ha 68 scuole, quindi che necessitano tutte di manutenzione. Invece con l'asse 1 vorremmo, dopo la scuola di Ottava, concentrarci a Monterosello Basso, cercando di fare un'unica struttura per le scuole che oggi sono inserite nella scuola vecchia media numero 6 in Piazza del Sacro Cuore e la Via Parese. Vorremmo avere un'unica scuola con un migliore servizio e questo finanziamento che abbiamo già preventivato come gli uffici prevede un investimento di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Alternanza scuola-lavoro. Il CUS di Sassari, liceo sportivo del Cano Poleno, hanno siglato un accordo per poter svolgere l'attività nelle strutture di San Giovanni. Anche il comune di Sassari tra le realtà ospitanti il progetto. Sentiamo. Il Centro Sportivo Universitario Sassarese ha siglato un apposito accordo con il liceo sportivo Cano Poleno per consentire agli studenti dell'Istituto Superiore l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro negli impianti del CUS Sassari, nella località San Giovanni. La cosiddetta alternanza scuola-lavoro, ormai obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori, licei compresi, è una delle più significative innovazioni in linea con il principio di scuola aperta, apportate al sistema della legge di riforma scolastica, meglio conosciuta come la buona scuola. L'idea è quella di introdurre a livello scolastico in maniera universale un metodo didattico di apprendimento che sia in piena sintonia con le esigenze del mondo esterno. Il metodo non si rivolge più soltanto ai giovani, ma coinvolge, creando punti di contatto, anche gli adulti con i docenti che rappresentano i tutori interni e i tutori esterni. L'intento è quello di favorire la comunicazione intergenerazionale. Anche il comune di Sassari tra le realtà che ha offerto la disponibilità ospitando l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, «Se avete una passione e coltivatela sino in fondo, questa potrebbe anche diventare un lavoro, il vostro futuro», ha detto il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, rivolgendosi alla folta platea di studenti del liceo scientifico Marconi nel corso della presentazione del progetto. Un meccanismo che coinvolge imprese e aziende, ma anche associazioni sportive di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali. E ora invece il lavoro, l'avvertenza dei minatori di Olmedo. Il primo marzo una delegazione dei sindacalisti e lavoratori andrà ad Atene per incontrare i vertici della Elmin, la nuova concessionaria della miniera. Dopo l'assemblea tenuta ad Olmedo con i sindaci del territorio, gli stessi sindacati chiedono una azione più incisiva della regione, criticano l'assessore all'industria Piras per non aver confermato la sua presenza in Grecia, in rappresentanza dell'isola. Sentiamo. Nonostante il sostegno di tutti i sindaci del territorio, dell'assessore all'industria Piras e di altri esponenti politici, espresso nell'ultima assemblea tenutasi a Olmedo, i lavoratori della miniera di Bauxite non credono in vaghe rassicurazioni e chiedono risposte certe sulla loro sorte, che arrivino dai nuovi concessionari della miniera, la Elmin Bauxite, con sede in Grecia ad Atene. La concessione sarà attivata entro il 10 marzo e la società non si è espressa sul mantenimento dei livelli occupativi, mentre tutto lascia pensare che le intenzioni sui minatori in mobilità non siano positive. I segretari generali di Filtem CGL, Fenca Cisle e UGL Chimici, Gianfranco Murtino, Luca Velluto e Simone Testoni, affiancati dal sindaco di Olmedo, Tony Faedda, insistono sulla necessità di un'azione più incisiva della regione sulla vertenza e in particolare criticano il mancato impegno da parte dell'assessore Piras a partecipare all'incontro che le rappresentanze sindacali avranno con i vertici della Elmin il 1 marzo ad Atene. Presente all'Assemblea di Olmedo, Piras ha infatti detto che avrebbe valutato la proposta di accompagnare in Grecia i minatori, ma nella sua nota stampa diffusa dopo l'Assemblea ha semplicemente auspicato che durante l'incontro i vertici della Elmin rendano trasparenti il piano industriale e quello occupazionale, rinnovando tra l'altro, fino a prova contraria, la fiducia alla multinazionale. La regione, come proprietaria della miniera, avrebbe dovuto sostenere davanti agli industriali la richiesta di una graduale riassunzione dei lavoratori, commentano i segretari sindacali, che hanno annunciato una sospensione del presidio ai cancelli della miniera in attesa degli esiti dell'incontro di Atene. Le competenze digitali dei NIT, i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, in opportunità lavorative, è Crescere in Digitale, il laboratorio che questa mattina si è svolto a Sassari. Sentiamo Luca Foddai. Trasformare in opportunità di lavoro le competenze digitali dei NIT, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. È stato attivato questa mattina, nella sede della Camera di Commercio di Sassari, il quarto laboratorio di Crescere in Digitale. L'iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro, è attuata da Union Camere in collaborazione con Google, per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese. Il progetto si rivolge agli iscritti al programma Garanzia Giovani, offrendo loro un percorso di formazione articolato in 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3.000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane. Al laboratorio di Crescere in Digitale ha preso parte una decina di giovani della provincia, che hanno completato la prima fase del percorso formativo online e superato il test. I laboratori rappresentano la prima occasione di contatto con le imprese del territorio, che si sono iscritte a Crescere in Digitale, per offrire tirocini formativi retribuiti da Garanzia Giovani, e che darà la possibilità ai ragazzi di accedere alle offerte delle imprese del Nord Sardegna, attive in diversi settori, da quello energetico-ambientale, all'abbigliamento sartoriale, dalla grafica, al turismo e all'agroalimentare. Nessun costo ricadrà sulle imprese ospitanti, che riceveranno un bonus fino a 6.000 euro, nel caso assumano il giovane dopo il tirocinio. Carnevale alle battute finali. Si concludono domani, martedì grasso, gli eventi programmati dal Comune di Sassari. Sabato scorso la tradizionale sfilata organizzata dal gremio dei Macellai con la maschera dell'orso. Sentiamo. Si concludono domani gli eventi del Carnevale programmati dall'assessorato alla cultura del Comune di Sassari. Per il martedì grasso, infatti, in calendario la pentolaccia del Carnevale a Monterosello Alto. L'appuntamento, organizzato dall'ASD Dance School No. 1, è per le 16 negli spazi dell'oratorio del Cuore Immacolato. Alle 17.30 prenderà il via un grande spettacolo che coinvolgerà diverse strade del centro storico, da Porta Sant'Antonio a Corso Vittorio Emanuele, sino a Piazza Santa Caterina. Si tratta di Convivenze Tu, Io, Gli Altri, Noi, il Carnevale all'insegna della Multiculturalità, organizzato da Teatro On Vol e da Piccola Coppia. L'avato scorso è stato invece rinnovato l'appuntamento con il tradizionale Carrasciari di Rimazzitaggi e che quest'anno ha visto la collaborazione dell'associazione Sandala. Dall'area del vecchio mercato civico è partita la sfilata con l'orso e le altre maschere della tradizione sassarese. In serata, sempre nell'ex mercato civico, è stata offerta dal gremio dei macellai una arrostita, presente un punto ristoro con birre artigianali, vino e bibite, e uno stand con frittelle e altri dolci. Una pubblicazione sulla storia dell'eroe nazionale Nazario Sauro è stata presentata nei giorni scorsi agli studenti del liceo scientifico spano dal referente della Lega Navale Stefano Macioccu in compagnia dell'autore, l'ammiraglio Romano Sauro. Sentiamo il servizio di Carlo Sandroni. In occasione dei cento anni di storia dell'eroe nazionale Nazario Sauro, presente nella toponomastica sassarese, è stato presentato a Sassari un libro scritto dall'ammiraglio Romano Sauro, nipote del più famoso Nazario. L'incontro con gli studenti si è svolto nell'aulamagna del liceo scientifico spano ed è stato proposto dal referente della Lega Navale Stefano Macioccu. La pubblicazione ripercorre la storia dell'eroe Nazario Sauro, grande protagonista dei libri scolastici, e ciononostante è poco conosciuto dai ragazzi. Un'opera ricca di fatti inediti, riscoperti in documenti, diari, scritti e racconti familiari, che riporta all'attenzione un protagonista della Prima Guerra Mondiale. Un marinaio d'altri tempi, riletto in modo più attuale e moderno, ma sentiamo un commento sull'opera dello stesso autore. Io sono uno dei figli, uno dei figli dei figli di Nazario, quindi lui era mio nono sostanzialmente. Io sto facendo un giro d'Italia in barca a vela, iniziato a settembre di quest'anno da Sanremo, mi porterà a toccare cento porti in Italia e anche all'estero, andrò in Albania, in Croazia, in Montenegro, in Slovenia, andrò nei posti dove Nazario Sauro e mio nonno hanno navigato, soprattutto l'Alto Aderiatico. Porto in giro un libro che ho scritto insieme a mio figlio, che si chiama Nazario Sauro, storia di un marinaio, i cui diritti d'autore ricavato andrà a un'associazione on-loose, che si chiama Peter Pan di Roma, che si occupa di bambini malati di cancro. Quindi c'è questo abbinamento tra il libro e questa associazione, quindi un motivo di solidarietà. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. In primo piano il basket è una bellissima iniziativa dedicata ai più piccoli che riguarda la vela. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. In primo piano il basket finale amaro per la Dinamo, che cade in trasferta a Pesaro dopo aver condotto per lunghi tratti. Una partita che ha evidenziato il fatto che un margine ragguardevole di vantaggio può non bastare di fronte ad un avversario affamato di punti. Ed ora a pensiero rivolta a gara 1 dei sedicesimi di finale della Champions League, che vedrà impegnati i giganti mercoledì contro i francesi delle Manzi. Sentiamo Ico Ribichesu. La Dinamo Banco di Sardegna cade all'Adriatic Arena di Pesaro contro una VL motivata ed agguerrita, che riesce a recuperare un gap di 18 punti, trascinata da un Tortoni in giornata di Grazia, autore di 28 punti. Risultato poi essere insieme al centro Jones il migliore in campo. Partita bene, la squadra di coach Pasquini ha chiuso il primo periodo sul più 13, ma Pesaro ha innalzato l'aggressività difensiva nel secondo periodo e ha rosicchiato 9 punti ai giganti, che comunque anche nel terzo periodo hanno mantenuto un vantaggio di 3 punti, 52 a 55. L'ultimo quarto ha visto un parziale di 24 a 16 per la VL, che ha vinto la partita. Qualche bramarico, certo, ma i risultati che sono arrivati dagli altri campi sottolineano che ogni partita va giocata come se fosse una finale, se si vuole raggiungere una buona posizione in partenza per i play-off. Classifica corta, che vede dal terzo posto dell'Umana Venezia, che oggi ha 24 punti, al dodicesimo posto di Caserta, che conta 18 punti, ci sono ben 10 squadre in piena corsa, per aggiudicarsi 6 posti nella griglia play-off. Ora obiettivo focalizzato sulla sfida ai Champions League e al Palazzo dei Migni, mercoledì, arrivano i francesi delle Mans. Occorre ritrovare continuità per proseguire il cammino europeo. Potrebbe essere il momento giusto per inserire nei giochi il nuovo arrivo David Lighty. Ancora basket in carrozzina, questa volta continua la marcia solitaria in vetta alla classifica del campionato di basket in carrozzina del GSD Porto Torres. A due giornate dalla conclusione della regular season, si sbarazza con facilità anche dall'ostacolo Padova e si prepara per la Final Four di Coppa Italia, che inizierà venerdì a Pescara. Sentiamo. Il GSD Porto Torres ha blindato il primo posto in classifica battendo al Palamura il Millelium Padova, con il risultato di 77-55. Sulli scudi, Giorgio Bessic, che nei suoi 28 punti ha rappresentato la vera spina nel fianco dei Padovani, che hanno dovuto subire il gioco dei torritani, basato sulla pressione a tutto campo. In doppia cifra anche Matt Scott, 13, Phil Pratt, 16, e Dario Di Francesco, che con un 5 su 5 dal campo ha chiuso con 10 punti personali. Le dichiarazioni di coach Cappellini sono riferite al fatto che la prossima settimana si dovrà giocare alla Final Four di Coppa Italia, dove si presenta l'occasione per mettere in bacheca il trofeo. La squadra è in salute e ci si aspetta a tutti una continuazione di quanto di buono si è prodotto fino ad oggi, anche perché tra 15 giorni il GSD volerà in Germania per la fase finale della Champions League. Appuntamento a Pescara venerdì e sabato naturalmente in bocca al lupo a Bruno Falchi e compagni della redazione sportiva di Canale 12. Veleggiare a Sassari, in città, nella piscina di Lufangazzo, è l'idea rivolta ai più piccoli e promossa dal centro velico dell'Asinara, assonautica del nord Sardegna, lega navale di Castelsardo. Ieri c'è stato il primo evento. Ci racconta tutto Luca Foddai. Vele in città, ieri nella piscina olimpionica di Lufangazzo, un'iniziativa promossa dal centro velico dell'Asinara, assonautica del nord Sardegna e lega navale di Castelsardo. Entusiasmo e tanta curiosità da parte dei bambini che hanno così potuto ricevere un battesimo della vela. La nostra iniziativa mira a formare dei giovani, dei bambini, partendo dall'acqua dolce, quindi in un ambiente protetto, dove non devono avere paura di niente, per ottenere però una preparazione tale da mandarli in mare dopo pochi mesi. L'iniziativa nasce da un'idea del centro velico Asinara in collaborazione stretta con la lega navale di Castelsardo e grazie all'Endas e dal Garden Center che hanno permesso di utilizzare questa piscina. Un'idea che ha trovato il supporto di asonautica. Abbiamo secondato molto l'iniziativa. La missione di asonautica è quella di incentivare ovviamente la vela e tutto ciò che ci viene proposto che cerca di avvicinare soprattutto i giovani poi, perché è quello che manca. Gli istruttori insegnano i primi rudimenti a giovani e giovanissimi tra gli 8 e i 14 anni. Sono previsti corsi di vela per diverse fasce d'età, con cadenza bisettimanale durante il periodo invernale, per proseguire nella stagione estiva alla Pelosa di Stintino. Tutto ha preso il via un anno fa con un protocollo d'intesa che vede come soggetto capofila la lega navale che per il progetto ha messo a disposizione attrezzature dei soci. Nei prossimi giorni riusciremo probabilmente a portare delle imbarcazioni particolari che sono state costruite e concepite per essere utilizzate dai portatori di handicap. Queste imbarcazioni si chiamano DREAM. È come il nome che significa sogno. Noi abbiamo il sogno di poter estendere questa bella iniziativa anche a chi ha dei problemi fisici. Ed era questo l'ultimo servizio. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo ora. Io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 5012. L'informazione di canale 12, invece, torna domani mattina alle ore 7, e come di consueto non dimenticate la striscia informativa delle ore 14. Ora spazio le notizie nazionali con l'agenzia di stampa DN Cronos. Ma vi invito a rimanere insieme a noi anche dopo l'informazione perché c'è da seguire la quinta puntata di Salute Società. Il telegiornale torna invece domani alle 19.45. Io vi aspetto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.